Penso che sia la prima serata live dopo, boh, tempo in memory veramente, quindi finalmente raga siamo tutti qua, scusate io sono emozionatissima, adesso bevo anche già fatto un disastro qua per terra Vero, fascista sei bellissimo Benissimo raga, benissimo benissimo Procediamo con questa serata, anticipando i nostri amici Frozen Crown Yeah Bene bene Grazie a tutti 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 Grazie a tutti